Paolo, come rendere interessante il proprio ombelico? Per rendere interessante il proprio ombelico e magari anche la propria calvizie, per dire che ne so, la propria pancia e anche il proprio pene, se volete, la propria vagina o le proprie orecchie. Insomma, per rendere interessanti noi stessi e quando parliamo del nostro ombelico sappiamo che facciamo riferimento a quegli scrittori che passano tutto il tempo a scrivere di loro stessi senza spostarsi mai dalla loro stanza e cioè non è che non si spostino mai dalla loro stanza perché stanno tutto il tempo a scrivere, no, è che raccontano soltanto quello che avviene dentro la loro stanza. E questo allora cosa significa? Che è impossibile rendere interessante e non noioso ciò che avviene dentro una stanza e ciò che avviene su un corpo oppure ciò che avviene appunto intorno al proprio ombelico? No! La grande capacità degli scrittori è proprio quella di inventare, di creare, di riuscire a rendere interessante anche il proprio ombelico, naturalmente se si tratta di grandi scrittori. Pensiamo per esempio a tutti quegli scrittori che hanno passato il loro tempo a indagare la profondità della loro psiche i loro pensieri. Ecco, lì sì, davvero, senza mai spostarsi dalla loro stanza o anche solo dalla loro testa in quel caso siamo di fronte a grandi virtuosi che sono bravissimi a raccontare ciò che succede nella loro mente e in Italia ne abbiamo avuti alcuni che sono stati così bravi come per esempio Svevo per dire uno di qualche tempo fa o anche Giuseppe Berto con Il male oscuro per raccontare qualcuno più vicino a noi ma direi che sono tanti. Ma per quanto riguarda l'ombelico mi diverte pensare a un racconto di John Cheever che si intitola La pancia perché la pancia è in effetti molto vicina all'ombelico, anzi se ricordo bene è l'ombelico che è proprio sistemato come una specie di gioiello sopra una pancia e mi piace l'idea del gioiello sopra una pancia, forse un giorno ci scriverò un racconto insomma John Cheever ha scritto un racconto facendo parlare una pancia ma non la pancia di un generale che sta sempre a cavallo con la spada sguainata e neanche di una ballerina della danza del ventre che la tiene nuda e la mostra agitandola a tutti quanti quelli che sono nel teatro, nel locale a guardarla no, la pancia normale, di un uomo comune e devo dire che come il racconto è molto divertente perché tutti abbiamo una pancia e pensate voi se la vostra pancia parlasse Andrea, come aveva scritto un romanzo autobiografico vincente? Beh, per dirlo in una frase non mentendo rappresentando se stessi e gli altri con spudorata sincerità come fece in fondo Tondelli in camera separate faccio subito un esempio il suo libro più bello, il suo testamento spirituale dove lo scrittore, elaborando il lutto per la perdita del suo compagno morto di Heitz si racconta e si mette a nudo in un romanzo straordinario, commovente gli elementi in gioco in una narrazione autobiografica non cambiano rispetto a un qualunque romanzo dobbiamo avere sempre tre cose un protagonista forte un intreccio efficace una voce ben intonata però bisogna guardarsi da alcuni rischi in cui si cade facilmente scrivendosi di se stessi non bisogna essere troppo indulgenti con se stessi col proprio personaggio non bisogna tendere a migliorarsi a farsi più intelligenti più sensibili o più colti insomma migliori rispetto a quello che siamo bisogna riuscire a guardarsi con obiettività anche con spietatezza in alcuni casi senza indorarsi la pillola sui propri difetti sulle proprie eventuali bassezze bisogna guardarsi come ti vede qualcuno spiandoti dal buco della serratura senza schermi con assoluta trasparenza e quindi devi rischiare qualcosa di te stesso devi metterti in gioco si rischia sempre qualcosa nell'autorappresentazione perché in caso contrario se non rischi nulla di te stesso se lavori più per il tuo ego che per la storia il lettore se ne accorge e perde istantaneamente interesse al personaggio, al romanzo viene meno il famoso patto col lettore nei romanzi autobiografici il patto di verità di autenticità che stringi col lettore all'inizio del romanzo è ancora più forte rispetto a un romanzo qualunque di fiction perché ci sei proprio tu in quel personaggio ci metti la tua faccia di scrittore è come guardarsi allo specchio non puoi mentire allo specchio quindi metti il tuo protagonista il tuo alter ego in situazioni di rischio autentico in cui rischia di perdere appunto qualcosa nel lavoro, negli affetti vedete voi mettetelo nei guai narrativamente parlando fate succedere delle cose che lo cambiano lo trasformano non fate di voi stessi dei personaggi incolori, piatti passivi che restano immutati nel corso della narrazione quindi mettete bene in evidenza i conflitti create dei veri nemici in senso drammatico dei veri antagonisti che rappresenterete con la stessa spietata obiettività con la stessa verità che avete riservato a voi stessi qualcuno certamente si riconoscerà e ci resterà male mettetelo nel conto un altro rischio che si può correre nell'autobiografismo è sovrastimare la propria esperienza come fonte di ispirazione ritenerla mitica anche quando non lo è affatto non bisogna adagiarsi troppo insomma sul proprio vissuto bisogna ricordarsi che sta scrivendo comunque un romanzo che ha delle regole sue proprie per funzionare quindi una certa dose di fiction direi che è comunque necessaria sia pure in una struttura no fiction per far quadrare i conti per rendere avvincente ed emozionante la lettura alla prossima Paolo, che cos'è l'autofiction? allora immaginiamo uno scrittore che scriva una storia di un personaggio che si chiama come l'autore con il nome dell'autore il cognome dell'autore qualche volta solo con il nome altre volte soltanto con qualche caratteristica che però fa capire benissimo il riferimento all'autore e però la storia che viene raccontata non è esattamente quella dell'autore e cioè è una storia di fiction che vuol dire di fiction? che non è del tutto autobiografica ma inventata perché questa parola fiction viene utilizzata in inglese per indicare sostanzialmente la narrativa quindi che cos'è l'autofiction? l'autofiction è una specie di autobiografia in cui alcune parti sono vere probabilmente ma non sempre e alcune parti sono finte certe volte è proprio tutto finto ma d'altro canto questo discorso sull'autofiction e cioè sulla verità e la finzione è un discorso molto più complesso molto più profondo perché in fondo anche quando gli autori pensano che stanno scrivendo la loro vera autobiografia cioè tutta la verità nient'altro che la verità noi lettori abbiamo sempre il dubbio che quella non sia la verità e loro stessi, gli autori quando sono molto riflessivi molto profondi si rendono conto che quello che stanno raccontando anche se a loro sembra veramente la verità potrebbe non essere la verità oggettiva potrebbe essere semplicemente la loro interpretazione della verità del resto qualcuno ha detto che quando si ricorda noi ricordiamo soprattutto l'ultima volta che abbiamo ricordato qualcosa non esattamente il ricordo ma il ricordo del ricordo e anche con l'autofiction potrebbe essere così però è dichiarato cioè l'autofiction dice guardate quello che state leggendo è la mia biografia apparentemente ci sono io c'è il nome, il cognome c'è il mio cappello c'è la mia camicia ci sono i miei pantaloni ma chissà forse è tutto finto e quindi leggetelo come se si trattasse di un romanzo perché quello è un romanzo Farmacia letteraria un podcast della scuola di scrittura Genius in due minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro oppure mentre lo scrivete Radio Genius se ti piace metti mi piace